Abbiamo visto che nell'anno 2013 questi dati sono rimasti pressoché costanti come nell'ultimo triennio. Quindi purtroppo questa crisi stringente ha lasciato inalterati questi dati. L'attività viene svolta comunque a tutto campo, quindi non viene tralasciato nessun settore. Questo è l'importante. Noi siamo andati comunque in tutti i vari paesi della provincia di Salerno, quindi abbiamo toccato un po' tutti i paesi. E purtroppo questi sono i dati, costanti come la nostra crisi purtroppo. Come si combatte questo fenomeno? Innanzitutto l'aumento delle sanzioni che è venuta dal gennaio di quest'anno, sono aumentate le sanzioni tantissime per il lavoro nero. Da 1500 con la diffida si è passato a 3009, quindi è un bel salto. Quindi questo è un deterrente molto importante che penso che tutti abbiano capito e stanno comprendendo. Quindi in effetti effettivamente il nero non conviene più. Ogni datore di lavoro deve capire che non conviene assolutamente più il nero. E anche gli stessi consulenti devono fare un'attività di persuasione nei confronti dei propri clienti di non toccare assolutamente il nero. Non conviene assolutamente, per nessun motivo. In presenza di strumenti legislativi alternativi che consentono l'assunzione anche in modo temporaneo del lavoratore a seconda della tipologia dell'attività stessa? Certo, ci sono tanti strumenti in questo momento. Ci sono i tirocini formativi, c'è l'apprendistato, ci sono i voucher. Insomma c'è gli strumenti per poter stare in regola. Quindi è più che altro una certa cultura che deve cambiare. Perché la cultura del nero c'è sempre stata e sono ancora legati, alcuni datori di lavoro sono legati a questa mentalità. Che ormai è obsoleta. Quindi bisogna abbandonare completamente questa mentalità e cercare di trovare soluzioni con queste nuove forme di norme che in effetti vanno incontro alle loro necessità. Nel settore dell'agricoltura invece la situazione è ancora più allarmante, considerando anche la difficoltà di effettuare controlli. Certo, in agricoltura il nero che riscontriamo sembrerebbe inferiore rispetto all'edilizia, rispetto al commercio eccetera. Però in effetti dobbiamo considerare che purtroppo molti lavoratori, soprattutto extracomunitari, sfuggono nei campi, corrono nei campi e quindi si scappano. Nonostante la presenza dei carabinieri con cui spesso andiamo a fare attività sul territorio, però purtroppo sono talmente vasti questi terreni agricoli e quindi è difficile poi riuscire a rincorrere queste persone che scappano. Quindi è una percentuale che comunque sarà come le altre, come le altre, come il commercio e come qui intorno al 50-60%. Grazie.